ciao a tutti e ben ritrovati sul canale di pippo quarto era questione di tempo nel senso che era scontato passassimo dal riciclato allo scippo così ci siamo ritrovati a dover ricorrere ai vecchi trucchi del passato a quando cioè il nostro primo canale caricava solo contenuti altrui una fanciulla come iaia non ha di certo bisogno di presentazioni ma in questo video sia lei che la lambertucci ci daranno consigli su come sballarci seppur in modo del tutto naturale prima di cominciare però la bella ed affascinante iaia ci informa che rientrate in studio e la lambertucci a prendere la parola anche perché la scongelata rosanna vanta un'esperienza trentennale di prodotti utili per il benessere delle persone per la precisione si tratta di una speciale perché pur essendo minuscola è un concentrato di spezie che hanno poteri magici l'elemento predominante ma in realtà ci sono anche tanti altri ingredienti alcuni dei quali li conosce solo la lambertucci però ce n'è uno per il quale la dolce rossanuccia va davvero matta come detto la lambertucci ha davvero una grande esperienza e riesce a distinguersi rispetto alle altre perché è brava e attenta a trovare soluzioni innovative e assolutamente sorprendenti di solito le compresse vanno assunte o da sole oppure accompagnate con un po di acqua ma quella che ha realizzato rosanna va ingerita insieme al a molti suonerà sicuramente bizzarro ma dagli studi fatti in laboratorio pare che questa accoppiata sia davvero una bomba per il nostro organismo è ottima per chi soffre di digestione lenta infatti iaia sottolinea che è perfetta per il ma questo è solo uno dei tanti effetti salutari che questa compressa svolge e la bella e affascinante iaia ne elenca degli altri diciamo che questo già potrebbe bastare a spingerci ad acquistare queste compresse miracolose ma in realtà non finisce qui perché la lambertucci ha deciso di tenersi per sé il colpo di scena un qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare quella pilloletta di pochi grammi è magica nel senso che appena la assumi colui che ti sta sulle palline improvvisamente puff insomma la nostra rosanna ne sa una più del diavolo ma come se non bastasse questo prodotto è in grado di incidere positivamente anche sul sistema nervoso infatti iaia ha rivelato che il marito ha seguito le indicazioni della lambertucci e in meno di un mese è praticamente guarito precedentemente era abbastanza ragazzuoli belli il video finisce qui e speriamo vi sia piaciuto grazie mille della visione e arrivederci al prossimo appuntamento